Trasferta in provincia dell'Aquila per l'Olimpia agnonese, ospite dell'Avezzano. Statistiche alla mano, gli abruzzesi in queste prime sei uscite di campionato hanno conquistato sei punti, frutto di tre pareggi, due sconfitte ed una vittoria, quella di domenica scorsa in casa della San Giustese. L'Olimpia agnonese a quota quattro punti invece non fa bottino pieno dallo scorso 3 settembre, prima giornata di campionato. I Granata hanno bisogno di invertire rotta per racimolare qualche punto ed uscire dai bassi fondi della classifica. Una vittoria non solo aiuterebbe i Molisani a risalire in classifica, ma soprattutto riporterebbe il sereno intorno ad una squadra che non vive certamente un momento positivo a causa delle ultime gare. Infatti, contro i biancoverdi degli ex Rullo e Cassese tra le fila dell'Avezzano ad inizio stagione, i ragazzi di Bucci cercheranno di riscattare le ultime tre sconfitte. Quella di domani sarà una gara ostica che metterà a dura prova gli Altomolisani. I padroni di casa hanno lavorato intensamente in settimana per preparare al meglio il match e per non farsi trovare impreparati contro una squadra affamata di punti, che viaggerà alla volta del vicino Abruzzo con un solo obiettivo, i tre punti. Ad Avezzano, Candido Bucci potrebbe riproporre il modulo schierato nel derby della scorsa settimana. L'unico dubbio riguarda la difesa poiché l'ex Rullo non ha ancora smaltito la contrattura rimediata contro il Campobasso. Tra i pali Faiella, linea difensiva composta da Corbo, Frabotta, Cassese ed uno tra Litterio e Rullo. In mediana Di Lollo, Ferraro e Barbosa, mentre in attacco Santoro, D'Aversa e Margarita. La terna arbitrale sarà composta dal signor Claudio Campobasso di Formia, quadruvato da Marchian Vojtyuk di Ancona e Daniele Cordella di Pesaro.